Noi siamo rimasti basiti, ma questo già da ieri, perché noi abbiamo scoperto che ci sarà un cambio, quindi un progetto su Piazza Andrea Costa dai giornali, quindi da ieri sui giornali. Non sapevamo assolutamente che stamattina fosse presentato il progetto, sapevamo solo che sarebbe stato presentato in giunta la prossima settimana, proprio perché come associazione di categoria non siamo state interpellate dall'assessore, spesso anche con altri assessori noi comunque abbiamo un confronto, una collaborazione, creiamo comunque delle sinergie, si portano avanti magari delle idee, si cerca un po' di confrontarsi, cosa che non è successa in questo caso. Tra l'altro, questa è una prova che era stata fatta anche a primavera, che purtroppo è stato un flop perché non ha funzionato, anzi ne hanno sofferte le attività economiche del centro storico, e quindi tant'è che l'assessore poi era tornato indietro. E questo non va bene, perché comunque noi non è che non siamo per la riqualificazione, noi siamo per la rigenerazione urbana. Ciò vuol dire che la rigenerazione urbana in una città come Fano è importantissima, però dobbiamo capire esattamente come viene fatto, perché riguarda tutto il tessuto economico. Non si possono destabilizzare così gli operatori, perché già stanno facendo fatica. Il momento è difficilissimo per riuscire a sopravvivere e in questo momento arrivano le notizie di una qualcosa, riqualificazione che verrà fatta in piazza Andrea Costa senza sapere niente, gli operatori si trovano veramente destabilizzati. In questo momento la priorità è riuscire ad andare avanti, restare aperti, non chiudere la propria attività. Quindi destabilizzare così gli operatori con una dichiarazione fatta sui giornali non è assolutamente il modo di fare. Grazie. Grazie. Grazie.